Amici, oggi sono andato al mio supermercato Spazio Conad e ho preso praticamente questi bei festoni Halloween Kinder Guardate che belli Questi li appenderò qualche giorno in casa mia Guardate quanti sono belli tutti questi festoni E qui invece ci sono delle maschere Qua sotto altri festoni Ecco qua il festone Ultimo E qua invece ci sono altri festoni Qua c'è un pipistello Kinderino E una zucca Halloween Kinder Preparatevi a far festa Props Per scattare foto però usamente divertenti Festoni per decorare la vostra casa e preparare la festa di Halloween Invitate i vostri amici ad una festa paurosa Queste maschere io alla festa di Halloween Quando andrò spasso me le porterò in giro E sono belle queste maschere C'è la maschera di un pipistrello e la maschera di una zucca Qui c'è Kinderino riflesso Vicino al temporale è un castello pauroso con una zucca in mano Sempre lui esce nelle festività di Halloween Kinder Lui il protagonista Allora ricapitoliamo Allora ricapitoliamo Una zucca L'ovetto Kinder Kinderino vabbè Pipistrello Halloween Kinder Un fantasma Un altro Halloween Kinder E altri due Kinder Questo era il tutto E non dimenticatevi domani Perché ci sarà il video Della festa di Oktoberfest Che farò A vasto Ciao Ciao